Un riconoscimento voluto da tutto il paese lacustre che della morte di Emanuele Petri ha saputo fare tesoro superando il dolore acquisendo un forte senso dello Stato. Oggi alla presenza del capo della polizia e del dirigente generale della pubblica sicurezza il comune di Tuoro ha conferito la medaglia d'oro di benemerenza alla polizia di Stato. Un gesto e ricordo del concittadino Emanuele Petri, quale simbolo di tutti i poliziotti che spendono la loro vita a servizio della collettività. La consegna è stata preceduta dalla proiezione di un filmato realizzato dagli operatori della polizia di Stato a ricordo del triste giorno della morte di Petri e di tutte le operazioni che gli uomini delle forze dell'ordine realizzano per controllare il territorio. Patrizia Cerimonia, sindaco di Tuoro sul Tresimeno, prima della consegna della medaglia al valore, ha voluto sottolineare come la morte di Petri sia stato uno spartiacque che ha portato la comunità ad unirsi e a sviluppare una collaborazione con l'associazione Petri per educare i ragazzi alla legalità. Il capo della polizia di Stato, Franco Gabrielli, a tempo della morte di Petri, era capo della Digos e guidò le indagini che portarono allo smantellamento delle nuove Brigate Rosse.